salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura QSF1 manager veniamo dal gran premio scorso di Imola in cui non è andata proprio benissimo prestazioni che ormai sappiamo carenti per quanto riguarda la nostra vettura stiamo cercando con i vari aggiornamenti che spero arrivino presto di raddrizzare un po la situazione prossimo gran premio che quello di Miami si è corso quello reale qualche giorno fa e oggi ci andiamo a fare quello simulato diciamo allora prima di tutto andiamoci a controllare le mail allora debriefing vabbè le solite cose Gasly è carente in difesa questo lo sappiamo una gara difficile il consiglio è spesso disappunto le prestazioni sotto le aspettative lo sapevamo reso conto sospensioni produzione completata ok l'avevo messo a fare perché erano un po limitate al al magazzino allora continuiamo un attimo vediamo un po cosa arriva la sala dei cimeli aggiornata ok l'abbiamo portata al massimo condizione visita scadenti quindi questo lo ristrutturiamo ok continua allora urgente scarsa disponibilità le sospensioni allora in verità sia le sospensioni sottoscacca che l'alettone l'alettone non abbiamo preso quello nuovo oppure lo stiamo ancora e no lo stiamo ancora creando credo allora vediamo un attimo dovremo fare un alettone anteriore il sottoscacca e le sottoscacca e le sospensioni allora alettone anteriore approccio frettato ne devi fa uno poi produzione sottoscacca anche qua affrettato ne devi fa uno e poi erano le sospensioni eccole qua quelle del secondo livello diciamo anche qua fanno una sola ok altre mille non ce n'erano quindi proseguiamo ok l'alettone anteriore completato vabbè sono quelle che abbiamo appena appena richiesto ok l'alettone ce lo abbiamo sottoscacca sottoscacca sospensioni vabbè sono tutte quelle che abbiamo appena richiesto sviluppo allora il nostro terzo pilota c'ha dei punti da dover andare a spendere andiamo a mettere su fluidità che qua oddio pure frenata siamo abbastanza carenti più che fluidità allora altri mail sospensioni produzione completato ok sottoscacca produzione completata va bene allora progetto completato pancce laterali ottimo mi sa che non favo in tempo a farle arrivare allora vabbè queste sono le anteprime della prossima gara questo è il suo conto finanziario fiducia che arriveremo tra tre mesi insomma come altri risultati devo vedere però che cosa abbiamo fatto eccole qua pancce laterali produzione di pancce laterali di fa proprio emergenza perché ci servono così le mettiamo subito nel nuovo nel nuovo gran premio alle veramente immediatamente e palpate chi stanno pancce laterali eccole mi sa che ancora non ce l'abbiamo però aspettate che ho sbagliato modifica ah no sono già qua ottimo installato uno installato due ok allora rispetto a quelle che abbiamo abbiamo migliorato qualcosina poca roba però insomma piano piano cerchiamo di andare appunto a fare delle modifiche ok reso conto mensile si siamo carenti praticamente in tutto ma fa venire angoscia solo a vedere l'ho preso conto produzione anche qua del telaio l'abbiamo fatto ok allora preparativi previsione in gara pioggia moderata attenzione perché la pioggia potrebbe esserci alleata ragazzi assolutamente non è un male dobbiamo veramente attaccarci a tutto allora raggiungi il q2 spero con un pilota si raggiunge il q3 spero con entrambi anzi no aspetta al contrario famo con il q3 q1 e il q2 con entrambi spero che il q3 già un po più difficoltoso posizione finale spero con entrambi perlomeno tra i primi 12 dai teniamoci un attimino larghi qua invece serie positiva serie posizione qualifiche con entrambi i piloti dalla decima dobbiamo andare molto molto conservativi purtroppo non siamo in grado di spingere molto allora direi che abbiamo fatto tutto preparativi inseriti componenti nuovi inseriti e andiamo al weekend di gara ragazzi iniziamo a fare sul serio vediamo un po come sarà la situazione tracciato comunque difficile assolutamente per la nostra vettura visto il lungo rettilineo dell'ultimo settore e visto che noi pecchiamo di velocità massima insomma non è proprio il top siamo nello stato del sole perenne ecco il gran premio di miami benvenuti in florida all'autodromo internazionale di miami le strade di miami gardens verranno invase dai motori ruggenti e l'entusiasmo è già salito alle stelle qui a miami lo stadio è il cuore pulsante del tracciato e la parola d'ordine è spettacolo lunghi rettilinei e chicane ricordano il settore 1 di suzuka gestire bene l'RS può significare un posto sul podio la stagione è solo agli inizi e riserva ancora molte opportunità per cambiare le carte in tavola sulla pista non si può mai dare nulla per scontato la battaglia inizia ok allora si confermata appoggia moderata allora componenti quindi andiamo a cambiare il motore mi sa che per gas lì lo andremo a mettere nuovo in fp3 l'hers possiamo lasciare questo il cambio lo modifichiamo e vediamo anche l'assetto già che siamo qua allora andiamo a caricare un po' e andiamo anche a scaricare un po' non tanto in verità quanto pare non tanto e qui accorciamo un po' cerchiamo di muovere e poi vediamo se siamo sulla strada giusta ovviamente piano di giri fanno una ventina con le gomme soft ok allora anche per lui solito cambio anche per lui oddio non so se in verità in gara col fatto che magari la pioggia comunque non ci fa sfruttare tanto il motore potremmo mantenerci questo poi vediamo insomma vediamo che tipo di percentuale arriva poi una volta che abbiamo terminato le varie sessioni allora anche qui abbassiamolo un po' carichiamo l'anteriore oddio trazione bisogna dargliene un po' di più ok proviamo così e vediamo se va bene allora 20 giri e anche per lui gomma soft e ci siamo ovviamente dovranno conoscere i componenti nuovi che gli abbiamo installati quindi speriamo riescano entro l'inizio della della gara insomma allora come di consueto usciamo subito via le terme coperte ragazzi e via inizia la nostra avventura qui nel tracciolo di Miami facciamoci il solito giro on board con Hamilton e poi velocizziamo come sempre la sessione tratto qui molto molto guidato bisogna avere una buona direzionabilità della vettura qui tratto veloce che c'è anche il DRS staccata altra curva molto molto stretta tutta una serie di curve vedete qua molto strette nella realtà si è anche modificato il tracciato in quel punto e poi qua c'è il lungo rettilino dell'ultimo settore con ovviamente il DRS e poi le ultime curve che portano nuovamente sul rettilino di partenza allora velocizziamo e aspettiamo come sempre feedback da parte dei piloti per sapere un po' la situazione più che altro per il per il setup e che possano prendere esperienza per quanto riguarda i vari componenti andiamo a vedere anche gli altri che tipo di gomme hanno montato come sempre c'è un po' di diversificazione di lavoro ora le Clerc in prima posizione con le gomme gialle noi per il momento abbiamo Hamilton in sesta ora scende in settima e Gasly in dodicesima oh tensione errore qui di Hamilton che va a allargare la traiettoria per fortuna senza conseguenze qualcuno finisce largo eh vabbè l'abbiamo già visto non ti preoccupa sarà interessante vedere come come si svolgerà la gara con la pioggia è anche vero che con la pioggia ci è sempre andato male più che altro con la scelta dei vari momenti in cui montare le varie gomme vediamo un po' che ci dice Gasly già ha qualcosa che non va quindi per cosa l'abbiamo cannata incidente in curva 12 Ricciardo vediamo un attimo qui c'è Daniel Ricciardo ha fatto tutto da solo madonna come è partita male partita malissimo proprio in accelerazione allora Gasly che dove stia rientrando non è vero perché c'ha già ma c'è ancora un bel po' di giri allora aspettiamolo che torni in p torna in box allora vediamo un po' 43% però male male però abbiamo preso un perfetto e un grande già che insomma qualcosina l'abbiamo azzecchiato allora qua tocca caricare un po' cercando però di non andare a smuovere troppo qui quindi questi dobbiamo cercare di rimetterli a posto e sta sterzata anzi mettiamo a posto questa mettiamo così grosso modo ok e trazione facciamo un po' così vediamo se riusciamo a sistemare anche questa stabita infrenata va bene allora rimontiamo le gomme soft e il tempo che fanno le varie modifiche lo ributtiamo in pista le gomme stanno perdendo aderenza però non ci ha dato feedback sul setup noi lo facciamo rientrare in box ma che meglio o ce l'ha dato ma me lo so perso però allora qui abbiamo un 55% un perfetto instabilità in frenata la sterzata proprio male male quindi qua dobbiamo allora aspettate i rettilini qua devo cercare di caricare un po' quindi cerchiamo di risistemare qua qui qui anche cerchiamo di sì lasciamo un attimo così la trazione può andare bene così il problema è che qui abbiamo modificato poco in sterzata ora non so se deve andare più verso sinistra o più verso destra mi viene da pensare più verso destra qua c'è la barra molto più più larga però per mandarlo verso destra devo caricare un po' il posteriore e qua vogliamo giochicchiare un po' così ok vediamo un attimino anche per lui modifiche e lo ributtiamo in pista con le stesse gomme soft ok torna in pista Gasly intanto Luis per il momento mantiene la settima piazza ma ovviamente sono quelli con le gomme diverse Sainz per esempio in ottava posizione Perez con le bianche sicuramente ci finirà davanti e forse pure Russell mi veda a pensare vediamo un po' Rafet ha pure montato le gomme rosse quindi vediamo un po' come si evolverà la situazione ottimo tempo però con che non so se ha montato ora le bianche prima c'era le rosse a me sa di se poi Norris ha rimontato le bianche strano però utilizzino le bianche per questo poco per questo poco tempo alla fine con le bianche quasi tutta la sessione ce le fai vabbè sono scelte da parte da parte loro infatti già siamo calati in 11 siamo a posizione con Hamilton perché tutti gli altri si sono andati a migliorare per il momento in cima della classifica c'è Bottas con Verstappen in sesta posizione grande posizione anche per lui in seconda però sono solo prove libere quindi non non c'è da dargli molto peso vediamo vediamo i nostri se riescono a darci feedback positivo vediamo un attimo Gasly Stappen si gira in curva 1 ottime sensazioni e ok direi di farlo proseguire intanto scusate giù in curva 13 un bel po' di errori qua delle buone sensazioni per Hamilton vabbè mancano 4 minuti facciamo anche girare lui e via così intanto prendono punti esperienza e conoscenza anche del tracciato di componenti sono l'88% beh dovremmo riuscire ad arrivare al 100% entro il Q3 ok entro le prove libere 3 insomma si lo so che come sono andati ma tanto è finita la sessione quindi va tranquillo ok sessione terminata e vediamo un attimino com'è la situazione e allora fiducia dell'assetto 82% che non è male e Anel sta al 78 vabbè l'importante è aver aumentato comunque la percentuale generale vediamo un po' qui cosa abbiamo sistemato ok la sterzata è rimasta su grande abbiamo sistemato la trazione la trazione diamogli un paio di clic va quindi la stabilità dobbiamo cercare di rimetterla a posto e i rettilinei non lo so proviamo a caricarla un altro pro un altro po' e vediamo che esce fuori proviamo così vediamo se riusciamo a sistemare anche quelli che sono grandi come come valutazione allora monteremo le gomme bianche 20 giri ci stanno tutti anche per lui gomma bianca il setup abbiamo tanti bene però dovrebbero diventare perlomeno grandi allora trazione qua stava un po' in mezzo quindi direi di dare un clic qua la sterzata proviamo a metterla così questo è il problema che devo rimettere la stabilità allora proviamo a caricare l'anteriore magari lui si preferisce avere un po' più di carico l'anteriore proviamo un attimo così ok i rettilini forse l'abbiamo caricata un po' troppo ok rasterzata qua allora proviamo a far così ok va bene vediamo cosa esce fuori anche per lui una ventina di giri ci potrebbero pure stare i componenti per il momento rimangono questi e andiamo in prova libera due e vediamo un po' com'è la situazione allora facciamoli subito uscire così non non perdiamo tempo anche qui meteo che sarà prevalentemente nuvoloso senza pioggia e sarà interessante ripeto la gara sulla pioggia più che altro capire quando inizierà piovere se già dall'inizio se da metà gara soltanto la parte finale con quanta intensità sarà interessante ed eventualmente dovremmo cercare nel caso di inventarci qualcosina per per tirare fuori un buon risultato vedremo insomma come si svolgerà la situazione allora intanto abbiamo Luis sempre in nana posizione non male ora decima con le bianche insomma non male Gasly un po' più in difficoltà ma lui comunque ha i componenti un po' usurati mentre Luis sta ancora utilizzando quelli buoni diciamo soltanto il cambio mi pare che abbiamo sostituito oppure no si scatola del cambio si temperatura gruppo populsore sta bello altino abbiamo sempre problemi di riscaldamento di su riscaldamento del motore motore freni proprio zero allora vediamo Gasly che ci dice ottime sensazioni allora facciamole rientrare subito così vediamo cosa dobbiamo andare a sistemare aspettiamo anche Luis eccolo buone sensazioni niente quindi non so ancora riuscirò a sistemarlo allora vediamo qui stiamo all'88% in rettiline abbiamo un po' peggiorato la situazione quindi abbiamo proviamo ad abbassarla un po' e cerchiamo di risistemare questi perfetti qua e anche qua ok bravo un po' sperando che l'avevi fatto troppo troppo salto però vediamo alle brutte c'è da mettere un clic in meno cioè qui al centro l'ala proviamo così va forse un po' più plausibile quindi la sterzata ok perché comunque da grande a perfetto in teoria manca veramente poco fare troppo salto poi rischi che vai addirittura a peggiorare la situazione e no confermiamo le modifiche facciamo rientrare lui insomma sta già entrando di su ok 72 sterzata male male però abbiamo sistemato qualcosina quindi la sterzata direi che deve andare più verso destra a sto punto ok e rettiline deve andare più a metà aspetta che dobbiamo però sistemare ok così la trazione dobbiamo rimetterla a posto ok e il sovrasterzo pure dobbiamo sistemare aspetta abbiamo mosso tutto e c'è c'è spostato il mondo praticamente allora trazione è così la sterzata la rimettiamo su della ma non so veramente come sistemarla sta cacchio di sterzata dannazione vabbè proviamo così raga e vediamo sto un po' in difficoltà con lui se ve cercate di capire come sistemarla sta macchina allora dai casli di nuovo e dai luis di nuovo possiamo utilizzare comunque le stesse gomme stanno al 60% non è un problema ma le brutte utilizzeremo magari un set di gomme soft nell'ultima parte giusto che fa qualche giretto per il momento in testa c'è lando norris poi verstappen us leclerc bottas perez fettolo consenze emilton ricciardo purcher alonso albon jo latifi schumacher gasli zunade stroll ovviamente stiamo in prova libera uno cioè due verità però tensione per dire giallo intanto vediamo se i nostri stanno bene si che stanno a schiantare alonso in curva tredici bisogna anche pensare ad eventuali incidenti che possono esserci in gara è una pista comunque cittadina che potrebbe portarci a non so la safety car per tutto la safety car quindi non è da escludere questa possibilità alonso ibox ma non me lo dà ritirato quindi potrà infatti riuscire in questo momento il tempo che ha risistemato tutto allora 7 minuti al termine della sessione vediamo se ci danno feedback prima della fine ok mi richiamo intanto dentro battiamo sensazione sempre ma vediamo se riusciamo per due minuti a fargli mettere la bomba russa Hamilton niente è molto sempre buone allora qui siamo al 97% quindi direi che con Gasly stiamo a posto monta un attimo questa aspetta però tanto anche se cioè noiavara un minuto vabbè niente non fa buon tempo la scala del cambio usurata e vabbè facciamo finire pure Hamilton tutti i giri tanta la sessione è finita è inutile che facciamo ad entrare anzitempo va bene termina la FP2 Gasly direi che sta a posto quindi deve solo girare eventualmente per tirar sulla percentuale mentre Hamilton sta ancora al 73% ancora non riesca a trovare una quadra Porello benvenuti e grazie per la compagnia in questo weekend di gara ultimi scampoli di prove libere poi inizieranno le qualifiche mentre l'attenzione di molti è già rivolta alla giornata di gara oggi squadra e piloti non possono concedersi distrazioni chi saprà sfruttare al meglio le sessioni di prove libere si approccerà alle qualifiche nella consapevolezza di aver tentato il tutto per tutto per assicurarsi una buona posizione in pista per la gara che li attende domani tenetevi forte inizia la formula 1 ok allora facciamo il cambio dei vari componenti allora si motore qua direi che possiamo pure cambiarlo quindi motore 9 per gas lì no l'herz magari no ancora il cambio direi di sé e gomma gialla per lui tanto ripeto deve solo girare quindi metti pure 25 giri basta che non si sfascia da qualche parte gomma gialla anche per lui se vediamo un attimo qua come stiamo siamo addirittura scesi quindi male male ripristinano un attimo ok diciamo che così abbiamo messo quello del 78% qua dobbiamo caricare un po' di più sta stala e stabilità infenata e i rettilini qua proviamo così e vediamo che esce fuori c'è ancora da lavorare con lui se purtroppo allora componenti il motore 53% non lo so scadere il cambio sì sicuramente il motore perché col fatto che c'è la pioggia alla fine non è che lo vai a sforzare troppo in gara però 53% con tutta la sessione che dobbiamo ancora fare qualifiche no non conviene buttiamo subito quello nuovo e vediamo l'hertz per il momento va bene così ok tutto pronto ragazzi andiamo in prova libera 3 quindi casli uscirà soltanto per incrementare la percentuale di conoscenza del tracciato e di componenti a lui se invece dobbiamo ancora sistemare l'assetto quindi concentriamoci su di lui sperando di riuscire a a trovare una quadra con con lui se appunto componenti comunque migliori per tutte le macchine per tutte e due le macchine però aspettiamo feedback da parte di di lui speriamo che riescano a portare al 100% sta conoscenza dei componenti per il momento sono al 93 e mi è da pensare che che non riescano però magari casli con il fatto che gira praticamente per tutta la sessione sperando riesca allora per il momento abbiamo casli in decima e emilton in undicesima 74 millesimi sono a parità di comma anzi casli c'ha anche un fino più di benzina perché abbiamo detto che fa 25 gira luis solo 20 quindi buono buono così per casli emilton da cacchio sta ok sta lì è il primo di quel gruppetto vediamo un attimo non pensavo che magari casli avesse fatto il giro con con l'ausilio di un drs eccetera non voglio dire che per forza emilton deve stare davanti a casli ci mancherebbe l'importante che facciano erbene da scuderia poi chi sta avanti o chi sta dietro non è un problema allora vediamo un attimo cosa ci dice sempre buone niente non riusciamo a portarle su ottimo dannazione veramente non ci riusciamo quanto sta 73 per fortuna avevo fatto ripristina a 78 cazzarola allora niente mettiamolo così stabilità infrenata che proprio non riusciamo a sistemare e niente i rettilini devi mettete così la trazione fai giù così e proviamo rientra con la gomma gialla facci 15 giri speriamo che ce la fai allora intanto comunque entrambi hanno il 100% di conoscenza del tracciato 95 ancora per quanto riguarda i componenti novi a me sa che il 100% non riusciremo a vedrello non so se comunque la percentuale aumenta anche con i giri di qualifica ma sono veramente paio i giri quindi la vedo la vedo difficile vediamo un po' quanta percentuale riusciamo a portarci a casa forse un 96 97 non so entro quanto riesce ad aumentare con il percentuale allora intanto rientra in box ci montiamo magari delle gomme rosse tanto comunque le andremo a a sprecare fai una 15 di giri e per lui la sessione può essere conclusa aspettiamo lui abbiamo ancora 20 minuti sperandoci di un feedback positivo stavolta non siamo riusciti a portarlo sopra l'80% lui è incredibile è stato forse un po' più semplice ma va a capire perché vediamo un attimo attenzione come una perseveranza e lo sappiamo forse me conviene farlo rientrare a lui prima che magari ci faccia faccia danni tanto casli in seconda posizione stavo per di gomme soft e comunque non c'è ancora stampato un buon tempo attenzione incidente in pista casli è vivo Hamilton pure ok facciamoli entrare un attimo lui perché le gomme consumate ho paura che faccia qualche cacchiata allora anche per te gomma rossa aspetta che volevo vedere un attimo il setup aspetta 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 a parte che i giri 15 vabbè buttano i 15 ci può andare componenti no assetto ci dà già qualcosa abbiamo un perfetto grande e qua ancora niente quindi sicuramente già così più dell'80% ci siamo arrivati e direi che ottima come cosa e vai torna in pista ci manca solo quel parametro e forse siamo riusciti a raddrizzare un attimo pure lui che non sarebbe male insomma come cosa vediamo un po' come è tempo per il momento quinto quinta posizione per lui come ti sembra l'auto l'auto è perfetta buono quindi sta tipo il 98 99% siamo riusciti veramente con un colpo di reni finale a tirar su anche Hamilton che per il momento stampa il terzo tempo a due decimi da Gasly lo vedo lo vedo in palla quest'oggi vediamo un po' in qualifica poi come andrà magari merito anche un po' delle pance che abbiamo messo nuove non lo so comunque per il momento siamo in seconda e terza posizione che non è affatto male ma poi sappiamo che in qualifica insomma si svegliano un po' tutti gli altri infatti il 99% a fiducia del setup entrambi per fortuna prendono il massimo bonus per quanto riguarda le prestazioni quindi ottimo così allora direi che ci siamo ragazzi ci approcciamo alla qualifica tutto pronto e andiamo in Q1 e vediamo effettivamente come sono le performance in pista iniziano già a uscire vediamo un po' non porta pioggia come sempre teniamoci spazio eventualmente per un altro un altro tentativo direi che lo facciamo uscire qua ecco sì forse qua conviene sono a metà va bene facciamo uscire qui dai spero che perlomeno un tentativo riusciamo a farlo senza senza problemi allora vediamo un attimo com'è la situazione facciamo uscire subito Gasly c'è una Mercedes ma pensi che tutti questi stiano rientrando nei box in verità no c'è una Ferrari di Sainz che è nel suo giro buono quindi lui lo troveremo magari un po' più lento nel nostro giro buono gli altri sono abbastanza in abbastanza lontani non dovrebbero darci noia facciamo passare Sainz senza rompergli troppo le scatole allora il primo è uscito Gasly quindi andiamo on board con lui abbiamo la pagina dei tempi aspettiamo arrivato l'unico potrebbe essere appunto Sainz che una volta terminato il giro potremmo trovarcelo lento in qualche in qualche parte del tracciato però vediamo poi effettivamente com'è la situazione allora intanto chiude il suo giro per il momento il leader Verstappen Sainz si porta a 90 millesimi da da Verstappen appunto inizia il giro Gasly primo settore purve molto molto veloce in successione è iniziato anche quello di Hamilton arriverà da qui a poco il primo intertemp per Gasly speriamo di beccare Sainz nella parte veloce 33-0 il primo settore ah per fortuna lo becchiamo bene 33-0 82 veramente molto molto simili intertempi è passato anche Hamilton su no non ancora su Sainz Gasly intanto è già nel terzo intertempo 20.6 52 del settore centrale 20.6 25 veramente simili forse Hamilton si è becchiato Sainz nel finale intanto Gasly la piazza in terza Hamilton in seconda addirittura forse sfruttando un filino di sci addirittura di di Sainz ottimo primo tentativo ragazzi per i nostri piloti e Norris intanto si porta in prima posizione andando a confermare l'ottima prestazione fatta già in prova libera 3 che l'aveva visto mi pare in prima posizione o prova libera 2 vabbè mi ricordo comunque era andato era andato bene allora velocizziamo un attimo penso che non abbiamo bisogno di un altro tentativo per quanto comunque non siamo siamo abbastanza tutti attaccati in verità però insomma per quanto potremmo calare di posizioni non penso di poter avere grossi problemi quindi rimaniamo in box speranzosi che insomma non la vedo molto molto difficile potremmo sì perdere posizioni ma insomma addirittura finire fuori mi sembra eccessivo comunque termina la sessione attenzione bandiera gialla nel primo settore che già va un po' a rompere i piani di chi si stava lanciando infatti leclerc si porta in seconda posizione e termina così insomma mi pare che siamo scesi in quarta noi quarta e sesta quindi va bene insomma best-up è un po' sotto tono in verità e il norris che si conferma con 28 e 5 insomma non ha fatto male il suo giro il suo compagno di squadra invece pur c'è è il primo degli eliminati quindi grande 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 norris allora e niente per il momento a posto così ragazzi andiamo in qualifica 2 solita tecnica per noi lo sapeva andava un po' più aggressivo anche con gli sponsor ma che cacchia non sapeva abbiamo fatto pena nelle ultime gare che ne so io che tiriamo fuori poi sta performance in qualifica però vediamo insomma probabilmente la situazione si accorcia un po' di più la griglia è un po' più corta e anche meno macchine che stanno girando attenzione settore 2 bandiera gialla direi di provare a farli uscire adesso attenzione un incidente per Alonso allora aspettiamo che passino queste macchine sul sul traguardo e facciamo uscire Hamilton pensa che Sainz ok si è lanciato adesso mi sta facendo il suo giro veloce facciamo uscire anche Gasly quindi seguiremo Hamilton che sarà il primo a lanciarsi a lanciarsi e come prima becchiamo praticamente Sainz lento quest'altra vettura dovrebbero aver già fatto il giro che sono le una è una Mercedes e Russell che ha davanti una è una Red Bull che anche lui pensa che abbia fatto il giro quindi sicuramente questi entreranno ai box ripeto l'unico sarà Sainz che come prima ce lo ritroveremo però è abbastanza avanti se ce lo ribecchiamo nel terzo settore sarebbe ottimo giusto per guadagnarci magari un po' di scia che non sarebbe male attenzione Gasly ora viene sorpassato da un Alfa Romeo che in Toria ora si sposta perché ha termina del suo giro comunque vediamo un attimo i nostri primi settori sarà Hamilton questa volta ad aprire le danze e su quello dietro ci sarà Gasly primo settore 33 0 82 più o meno in linea con quello del Q1 Fucsia per Pierre Gasly 32 950 attenzione si accende Gasly in questo Q2 20.6 il settore centrale 20.620 mentre quello di Gasly non è Fucsia ha avuto un lampo nel primo settore arriva sul traguardo Lewis Hamilton per metterla in seconda posizione andiamo a vederci Gasly che arriva sul traguardo per metterla in seconda a 27 millesimi da Perez e Hamilton 8 millesimi da Gasly grande colpo ragazzi per i nostri piloti con Gasly che si è acceso con questo Fucsia nel primo settore non so se ha goduto di qualche scia o quant'altro però ottimo tentativo e direi che come per la Q1 potremmo starcene belli tranquilli in ibox senza grossi problemi per quanto sicuramente Sainz può andare a non so proprio ritirato non l'avevo visto potrà andare a migliorare la prestazione ma insomma difficilmente andremo a perdere troppe posizioni infatti scaliamo solo in quarta e quinta e Vestapp invece si riprende la leadership del Q2 con Norris che comunque si conferma in palla insomma mettendosi tra le due Red Bull poi le nostre due ass con quarta e quinta posizione poi più attardate le Ferrari in sesta e in ottava posizione le due Mercedes pure dentro e l'Alpine quindi abbiamo due Red Bull due ass due Ferrari due Mercedes e poi McLaren e Alpine che si contendono il Q3 ok ci siamo andiamo in Q3 chissà che riusciamo in un lampo a portare qualche pilota nelle posizioni che contano intanto stanno già uscendo alcuni sarà un po' in casa trovare traffico cioè trovare strada strada libera dovremmo assolutamente tenerci lo spazio per fare un ulteriore tentativo magari nel finale quindi facciamogli uscire vediamo un attimo qui com'è la situazione allora intanto facciamo uscire Hamilton e Gasly anche ci sono due che stanno terminando il giro ma penso che siano nel loro giro lanciato anzi no nessuno ancora ha fatto un crono quindi sono tutti nel loro giro buono cioè giro buono e giro lanciato insomma infatti sta arrivando la Mercedes la la ostacoliamo un pochettino ma comunque passa senza problemi il primo è uscito Hamilton viene soppassato da Bottas la Mercedes di Bottas arriva nei primi tempi con Norris che rifila ben tre decimi per il momento a Leclerc poi Verstapp Perez Russell Sainz e Ocon scalda le gomme Lewis Hamilton troveremo davanti Bottas che sta terminando il suo giro poi via via tutti gli altri che stanno procedendo lentamente sperando di trovarceli nel tratto più più veloce del tracciato intanto inizia il giro Lewis Hamilton ci troveremo Bottas in verità nel tratto forse quello veloce eccolo qui nel rettilino si scansa Bottas quindi non dovremmo avere grossi problemi 33 e 100 è un filino più lento in verità il primo settore di Hamilton 33 0 87 più o meno in linea invece quello di Gasly 20.6 il settore centrale di Hamilton scusate mentre Gasly è stato blocchato da Bottas che sarà praticamente trovato davanti quindi assolutamente da rifare il giro per Gasly Hamilton termina in quarta posizione al centro a sandwich delle due Red Bull mentre Gasly in decima è stato ostacolato ha fatto 35 9 quasi 36 nel terzo settore perché ha avuto Bottas nella parte finale quindi ha perso un po' di slancio quindi aspettiamo che vadano un attimo ai box dovremmo farcela farli uscire nuovamente sì dovremmo farcela sì anche se saranno magari gli ultimi ma a me non mi interessa e Ok Non c'aveva una gomma nuova Dannazione E no Non c'abbiamo gomma nuova Prattanto noi ha la gomma rossa Ma chi c'ha a mettere nella gara Sfruttiamola tutta Vai 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 Tuttiamo gomma rossa nuova e via Dai 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 box Cioè in pista in pista Vediamo un po' Dovremmo essere gli ultimi Ma dovremmo riuscire a farcela Spero Quanto è il giro? Minuto e ventotto Sì dovremmo farcela Il primo sarà Gasly Rimango un attimo così velocizzato Ma poi lo rimetto a posto Sì mancano cinquantanove secondi Non ci dovrebbero essere problemi Allora seguiamo Pierre Gasly Intanto ovviamente un occhio Anche a Lewis Hamilton Più che altro vediamo se Hamilton riesce a sostenarsi Il primo settore che era stato Un po' più lentino Un decimo rispetto al suo solito Però insomma vediamo Se riuscirà a migliorarsi Entrambi con gomma nuova Arriva il primo settore di Pierre Gasly 33-0-77 33-0-43 Buon miglioramento da parte di Lewis Non è Fucsia Sa quanto cacchi ha fatto Norris Bandiera scacchi intanto Arriva il settore centrale 20-20-6 20-6 in linea Anche quello di Hamilton Siamo nel settore finale Qui Gasly aveva trovato Bottas Che l'aveva rallentato Quindi sicuramente migliorerà Sta migliorando anche Hamilton Però vediamo un attimo Gasly Che la mette in quarta Arriva Hamilton Che la piazza in terza Ottima performance Gasly arriva a 14 millesimi Da Verstappen E Norris si riconferma A pole position In questo gran premio di Miami Ottima veramente performance Per lui Verstappen forse non è andato A segno con i suoi giri Malgrado il best fatto in Q2 E quindi pole position Per Lando Norris Alla fine noi abbiamo fatto Comunque Abbiamo fatto un filino peggio In verità Guarda non è che ci sarei Vabbè Se avessimo fatto 28-6 E 23 Saremmo andati Sopra Verstappen Mentre Hamilton Comunque si è andato A migliorare Anche Oddio Andrà a peggiorare Di qualche Centesimo Veramente Rispetto Al Q2 Vabbè Comunque Buona prestazione ragazzi Speriamo di Mantenirla In In gara Perché insomma C'è la pioggia In gara Così ci hanno detto Il gran giorno è arrivato Prepariamoci a una nuova gara All'insegna dello spettacolo La Haas Ha dimostrato intraprendenza Nelle qualifiche Ora Ha la possibilità Di sfruttare La buona posizione in griglia Anche Anche se la prestazione Dell'Alpine Durante le qualifiche Non è stata eccezionale Si può dire Che la gara Sia ancora apertissima Oggi il cielo È più grigio E nuvoloso Che mai Ciò significa Che la gestione Delle gomme Potrebbe fare la differenza Nel corso della gara L'autodromo Ospiterà Momenti di azione Mozzafiato Questo è il Gran premio Di Miami Ok Quanto pare Non parte con la pioggia Ovviamente Attenzione Qua Ragazzi La pioggia È sempre un po' Anca sotto Allora Vediamo un attimo Previsioni Qua Nuvoloso Ok Però non mi dai Previsioni a lungo termine Mi dispiacere Ok Qua sì Allora Poco dopo Inizia subito A piovere Così Veramente Qualche giro Dopo Ragazzi C'è C'è Un'idea Molto Molto brutta Allora Sicuramente Tutti partiranno Con le commoshoot Ovviamente A me Verrebbe La parte Con le intermedie Che comunque Sì È una cosa Che non si può Vede Perché comunque La pista È asciutta Inizierà a piovere Veramente Tipo al terzo Giro Ok Quindi Se vogliamo cercare Di prendere Vantaggio E abbondante Vantaggio C'è da provare qualcosa Di diverso È anche vero Che facendo così Le gomme Le distruggiamo A parte che ci passeranno Tipo tutti Però Se no Dobbiamo Cercare Di mettere Allora Aspettiamo un attimo Allora Noi le rosse Non ce le abbiamo Nuove Però ci abbiamo Quelle messe Magari meno Peggio Di tutte le altre Perché poi Qua Sicuramente Andremo a Metterci Le intermedie Tipo Da subito Tipo Poi pioggiare Non so Il secondo giro Il tempo Il tempo Il tempo Che poi Loro Si fermano Noi iniziamo Ad ingranare Quindi Non lo so È Troppo Rischiosa Da questo punto di vista Visto che comunque Partiamo Abbastanza bene Come posizioni Come posizioni generali Quindi Vediamo un attimo Allora Ovviamente Montiamo Quelle che Sono messe Tutte uguali Quindi 85% Allora Con lui Su Quali Farei la stessa Identica cosa Quindi Soft Anche se Sono usate E Intermedie Tipo Da subito E poi Altri Intermedie Per quanto riguarda La parte Finale Poi si vede Poi si vede Come Come fare Sennò Dovrei andare Di gomma gialla Ma A parte Che la Terrà Veramente Per poco Tempo La gomma Soft Alla fine Anche se Usata Potrebbe Darci Un po' Più Di Grip Per quanto Riguarda Poi Le Fasi Magari Con Qua Pioggerellina Prima di Effettivamente Fare Il pit Stop Altrimenti Veramente Tocca Fa un giro Due Massimo E con Uno dei due Tocca Fa l'entra E mette Le intermedie E poi Poi provare Ripeto Io l'avrei fatto Già dall'inizio Però mi rendo conto Che sarebbe Stato Troppo Un azzardo E avrebbero avuto Problemi Di trazione In partenza Quindi Cerchiamo Insomma Di non inventarci Proprio Troppe Troppe Strategie Rischiose Allora Per quanto riguarda Il carburante Direi di Lasciare Questo Tanto Comunque Poi in Gara Se piove Non si andrà A consumare Tantissimo E Direi che ci siamo Ragazzi Andiamo In Gara E vediamo Un po' Effettivamente Come sarà La situazione Se già piove Mentre Mi fa vedere La presentazione Rosico È una giornata Di cielo Coperto Per i Piloti Che hanno Preso Posizione In Griglia E Qui Abbiamo Lewis Hamilton Oggi Inizierà La gara In terza Posizione Riuscirà A risalire Fino Alla Prima Grande performance Dalla nostra Scuola Pensavo di avere Molta più Difficordà Invece no Sta in quadra Ma l'orologio Vabbè Allora Si accendono I semafori 3 4 5 La spegnimento Il via Scatta adesso Attenzione Andiamo A vedere Che succede Qua Ah La sosta Mi ha fatto Piancorpo Pensavo fosse Qualche problema Di componenti Attenzione Lewis Hamilton Subito In calzaro Da Verstappen Riusciamo a Mantenerci La posizione Vediamo se Riusciamo a Prenderci La posizione Con Gasly Che tiene Dietro Sainz Attenzione Occhio Ovviamente Al meteo Minaccia Pioggia Tra 4 Minuti Pioggia Sembra Abbastanza Abbondante Quindi Bisognerà Fare Molta Molta Attenzione Essere Veloci A fare Il pit stop E a leggere Bene Come sarà La situazione Più che altro Se sarà Da gomme Intermedio O da bagnato Non so Cioè Questa nuoretta Sembra Abbastanza Minacciosa Insomma Però Non so Quanto Effettivamente Ne butti Giù Tanto Hamilton Fa segnare Il giro Più veloce Sempre più Attaccato A Leclerc Un po' Più distaccato Invece Verstappen Per il momento A 5 decime Con Gasly Comunque Che non Non lo molla Teniamoci ovviamente Così Anche per quanto Riguarda Leers Se no Dovremmo essere Infino Più aggressivi Oppure Dovremmo cercare Di sfruttarci Il DRS È anche vero Che poi Quando sarà Attivo Lo avremo Praticamente Tutti Perché siamo Un trenino Quello che Faticherà Sarà Norris Che già Si vede Un po' Minacciato Da Dal Leclerc Magari Averla Rivera Fosse Andare Come qua Nel giochetto E attenzione Gasly Che prova A farsi vedere All'interno Su Verstappen Andiamo un po' In modalità Sorpasso Tanto Piura Attenzione Pioggia Sta piovendo Piove 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 Box 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 Subito Cerchiamo Di Anticipare Attenzione Stanno tutti Andando un po' Lenti Box In questo giro Sicuramente Ci saranno Quelli che Non si Fermeranno Vedi Se avessimo Messo Manco 4 giri È durato Attenzione Intanto Si prova Gasly Qui All'interno Ma deve Desistere Visto anche Le condizioni Precarie Della pista Attenzione La science Che si è fatto Un attimino Più Minaccioso Ma condizioni Comunque Molto Umide Con pioggia Che è iniziato A cadere Abbastanza Copiosamente Sta anche Aumentando Abbastanza Vediamo Un attimo È abbastanza Strana Come Ondulazione Di Pioggia Non so Fino a quanto Posso arrivare Qua sopra Ora è a Due Millimetri Iniziano i pitstop Tutti ai box Non si fermano Leclerc Peretz Bottas E Fettel Joe Anche Doppio pitstop In casas Che viene fatto Molto Molto Bene E Velocemente Rientra Gasly In Undicesima Posizione Hamilton Invece In Settima E Attenzione C'è il gioco La gomma bianca Super in difficoltà Super attaccato Da Hamilton Non si sono Fermati Appunto Leclerc Peretz Bottas Ma Potrebbe Essere Comunque Una buona Chance Perché Almeno Sanno Quanta acqua Sta accadendo Stiamo Quasi Ai 4 Millimetri Quindi Quasi A filo Sul Montare Le Full Wett Oppure No Attenzione Ora Hamilton In Trazione Super Vettel Si lancia All'inseguimento Dei piloti Davanti Intanto Gasly Anche In scia A Joe Leclerc Ai box Tensione Si fermano Tutti Quindi Hamilton In seconda Posizione Vedicamente Norris Ancora Non si è Fermato No Si è Già Fermato Quanto Si è Fermato Norris Scusa C'è 5 Secondi Ma Norris C'è Partito Come Intermedio Vabbè Comunque Per il Momento I piloti Sono In Seconda E Terza Posizione Vediamo Se c'è Chi ha Montato Le Full Wett Le Ferrari Ma che Cazzo Le due Ferrari Con le Full Wett Va Va bene Solita Per il Per il Momento 3 55 Millimetri Quindi È Da Intermedia Anche se Sta Piano Piano Aumentando In verità Forse Si aspettano Un picco Qui Superiore Ai 4 Millimetri Vediamo Però Insomma Non è che Appena Superi 4 Millimetri L'intermedia Non va Più Però Potrebbe Essere Un po' Più Difficoltosa La La Questione Ma qui Poi va a Scendere Molto Sicuramente Per la Ferrari Si dovrà Rifermare Qua sale Un bel Po In verità Però Qua sarà Da Full Wett Se qua Sono 4 Millimetri Qua saranno Decisamente Più Di più Quindi Vedremo Vedremo Intanto Norris Sta Veramente Facendo Cara A sé Partito Veramente A fionda Pensavo Che non Si fosse Fermato Invece No Si è Fermato Pure Lui E ha Guadagnato Anche Tantissimo Per il Momento Abbiamo 5 Secondi Da Lui Siamo In Seconda E Terza Opposizione Gasly A 4 Secondi Da Taras Si sono Praticamente Ovviamente Tutti Fermati Solo Le Ferrari Con Le Full Wett Vediamo Se Pagherà La Loro Scelta O Meno Perchè Altro Vediamo Se Palla Praticamente Per tutto Il Weekend Quindi Sarà Molto Difficile Vediamo Un attimo Nando Girato In 44 0 Luis 43 9 Quindi Un filino Più Veloce Gasly 44 5 In Linea Con Quello Di Russell Per Momentum Il giro Più Veloce Ce l'ha Leclerc In 44 9 Ma Penso Che L'abbia Fatto Prima Quelli Come Da Asciutto Insomma Per Quei Due Giri Che Abbiamo Fatto Quelli Come Da Asciutto Allora 5 3 Comunque Il Distacco Andiamo Un po' In modalità Potenza Con L'HERZ Giusto Per Sfruttare Un po' Più Di Cavalli Per Quanto Riguarda La Nostra Vettura Per Cercare Di Cucire Un po' Il gap Su Lando Norris Che Sta Veramente Facendo Per Il Momento Un'ottima Gara 4 7 Per Il Mamento Il Distacco Gasly Per Il Momento Anche Lui Sta Andando Sta Andando Bene Abbiamo Un buon Margine Da Tutto Il Resto Del Gruppo Intanto Percentuale Che non Si è andata Ad alzare Anzi ora Piano Piano Sta Calando Quindi La Ferrari Andrà Un po' In Crisi Da Questo Punto Di Vista E Forse Dovrà Fare Un ulteriore Pit Stop Per Andarsi A Montare Le Intermediate Se Andiamo Sopra Ai 4 Millimetri Allora Andiamo A rimettere Neutro Qua Perché Due Giri Fatti A Bomba Hanno Prociugato L'Erz Infatti Si ferma Carlos Sainz Il Primo Per Montare Le Intermedie Pessima Scelta Per quanto riguarda La Ferrari Quindi Sainz Scende In Quindicesima Posizione Hamilton Si è portato A 3 Secondi A 5 Andiamo a vedere Un po' L'ultimo giro In 42 100 Abbiamo sforzato Un bel po' Anche Sull'Erz E Gasly 43 8 E 43 6 Russell Dietro Andiamo un po' Di potenza Pure con Gasly Qui Cerchiamo di Prendere Un po' Di Margine Da Russell Che ci sta Seguendo Poi via via Tutto Il resto Del Gruppetto Vediamo se Anche Leclerc Andrà A fare La La Sosta Anche se Lo vedo Un po' Più In Palla No Invece Entra Anche Lui In In Corsia Quindi Sosta Anche Per Per Lui Pensavo Stesse Insomma Attaccando Verstappen L'avrebbero Fatto Ritardare Un po' Di Più Invece No Lo hanno Richiamato Immediatamente Allora Concentriamoci Sempre qui Su Hamilton Tenendo Comunque D'occhio La barra Dell' Di Gasly Che abbiamo Tenuto Su Potenza Per cercare Di prendere Un po' Più Di margine Da Russell Che Comunque Girava Un pochettino Più Veloce Quindi Cerchiamo Di prenderci Un po' Di Di Distacco Pioggia Che Sembra Comunque Essere Presente Ma Non Così Eccessiva Andiamo a mettere Sul neutro Qui Vediamo un po' L'ultimo giro Di Lando In 42 9 Hamilton 42 8 41 6 Con Con L'hers In Potenza Di Gasly E così Abbiamo Guadagnato Un pochettino Su Russell Per stare Un filino Più Tranquilli Vediamo se Hamilton Piano piano Riesce a Rosicchiare Qualcosina Non Sarebbe male Ora stiamo Comunque Riportando In carica La batteria Magari Potremmo Riutilizzare La modalità Potenza Da qui A poco Per cercare Di Riaccorciare Un po' Il Il Gap Con Norris Che Comunque Dicevo È Stato In Palla Veramente Per Tutto Il Weekend Mostrandosi Subito Molto Molto Veloce In Condizione Di Asciutto E Ora Si Sta Confermando Anche Con Il Bagnato Hamilton Per il Momento A 3 Secondi E 5 Il Gap Sta Sta Un po' Aumentando In verità Piano 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 Norris Rosicchia Qualcosina Ora 3 E 4 Forse In trazione Ne abbiamo Qualcosina In più Ma Grosso Modo Il Il Distacco È Quello Aspettiamo Che Terminano Il Giro Per Vedere Quanto Quanto Hanno Girato L'ultimo 41 Lando E 40 198 Hamilton Gasly 1 40 160 Un Filino Più Veloce Di Hamilton Però Siamo Là Veramente Stanno Girando Molto Molto Simili Però Nando Sta aumentando Il Distacco Portandolo A 3 Secondi E 6 Si è Preso Un Decimo Praticamente E Qualcosa Più In In Questo Giro Pioggia Che sta Calando Di Intensità In Questa Fase Una Gara Su Sulla Pioggia Praticamente Siamo Molto Molto Sgranati 3 Secondi A 7 Assolutamente Non abbiamo Il Il Ritmo Per Andarlo A Prendere Sto Mantenendo Anche Un po' Più Di Benzina Magari Sul Finale Per Cercare Di Dare Qualcosina In Pioggia Che Ci Porterà Fino Alla Fine Della Della Gara Altalinando Insomma Scrosci Più Intensi A Meno Intensi Il Bivio È Giusto Qua Questa Fase Qua Se Si Conferma Così Così Alta Che Potrebbe Portare Le Fluet Perché Abbastanza Lunghietta Come 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 Aria Diciamo Per quanto riguarda i giri da affrontare Poi piano piano si calerà Quindi Se montiamo le Fluet Questa Fase Qua Dovremmo poi Tenercili Fino alla fine Quindi Vediamo Vediamo Come sarà la situazione Intanto 3 secondi e 8 Il distacco Di Norris Che sta guadagnando Veramente giro dopo giro Magari Sta sfruttando anche lui L'Hers Andiamo un po' più di Quindi di miscela Anche a Gasly Per quanto riguarda Invece La La strategia Come Consuma Siamo un po' più Bassi Rispetto a Quanto Preventivato Quindi Buono per noi Ma sicuramente Un'altra sosta Dovremmo Dovremmo Farla Quindi Per il momento Veniamo così Vediamo di arrivare Il più lunghi Possibile Ora Pioggia che sta Veramente Calando Ma insomma Ci aspettiamo Un altro Scrosh Da qui A qualche giro Insomma 10-15 giri Quindi assolutamente Gomme intermedie Che rimarranno Che rimarranno Insomma Montate Sulle nostre vetture Non andremo assolutamente A cambiare 3-7 Ancora Quindi Lando Che si prende Quasi un decimo A giro L'ultima 39-100 39-0 Luis Ma Comunque Il distacco Sul Sul giro In alcuni settori Va ad aumentare Sensibilmente Noi stiamo anche Spingendo un po' Di più Con Con la benzina Ma Un po' Un tiro e molla Insomma Abbiamo messo Sti Sti 3-5 3-6 Tra noi E Lando E non riusciamo A Ricucire il gap Purtroppo Ripeto O c'è da Giostrarsi Magari Sulla 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 Strategia Anche per quanto riguarda Le gomme Magari andandola A forzare Un pochettino Di più Per cercare Di aumentare Il ritmo Sennò Bisogna Bisogna Attendere Che Non so Un incidente Una safety car Una bandiera Gialla Qualcosa Ci faccia Riaccodare Tutti quanti Ovviamente Come ci riaccodiamo All'ando Si raccodano Pure dietro A noi Quindi Potrebbe essere Ovviamente Controproducente Però Insomma Non mi sembra Che Russell Abbia Il passo Per stare Insieme a noi L'ultimo giro L'ha fatto In 38 38 3 Mentre Gasly Ha fatto 37 39 1 Adesso Gasly 39 5 37 Ma sembra Eccessivamente Veloce Non so Perché Vabbè Comunque Gasly Premamente A 6 secondi Circa Da Hamilton E a 7 Da Russell Insomma Sto facendo Veramente Chiara Chiara A sé Senza Senza Grossi Problemi 3 4 Invece Il distacco Su Norris Per quanto riguarda Hamilton Qualcosina L'abbiamo Rosicchiata Magari Ha rallentato Un filino Lando Però Comunque Sempre lì davanti L'importante È vederlo Per avere Un po' Più di carica Per cercare Di andarlo A riprendere Mentre Non riesci Manco più A vederlo Visivamente Va un po' A demoralizzare La cosa Andiamoci a rimettere Un po' Equilibrata Per quanto riguarda La benzina E aspettiamo Che si è arrivata A tirare su Un po' Più L'Hertz E Riendiamo Di qualche giro In modalità Potenza Per cercare Di accorciare Ancora un po' Comunque Gli ultimi Giri 39.3 39.1 39.2 Poi 39.5 Insomma Poi ci sono Gli altri Che sono Un po' Più Altini Come Come Tempi E Ferrari Che purtroppo È sprofondata Indietro Visto L'errore Di montare Le full wet Quando Non ce n'era bisogno Insomma Poteva Ovviamente Pagare Come Soluzione Nel caso in cui La pioggia Sarebbe caduta Più copiosamente Ma Così Non è stato Non hanno pagato L'azzardo Effettuato E quindi Gara Da Ricostruire Per loro Tanto Sempre 3 e 4 3 secondi E 4 Il distacco Da Lando Che Ripeto Si sta Veramente Comportando Bene Ora Acqua Che va A diminuire La sua Intensità C'è un millimetro e 5 Però Ripeto Non credo Che si vada Ad effettuare Effettivamente Il cambio Gomme Per quanto riguarda Invece Le nostre Strategie Gomme Che Continuano A Consumarsi Meno Di quanto Ci si Sarebbe Aspettato Ancora Un po' Di più Addirittura Ora Va Anche Ad aumentare Il Verso L'alto Il Consumo Quindi Le stiamo Veramente Tenendo Bene Tanto Alla fine Non è Una questione Di chi Le consuma Di più Principalmente Siamo un po' Tutti uguali Con il percentuale Razz Sta al 66 Noi stiamo Sempre un finino Più in basso Come consumo Generale Della gomma Ma stiamo Più o meno Lì Percentuale Più Percentuale Meno Non Non è il caso Di andarle A sfruttare Di più Per cercare Di Ridicere Il gap Cerchiamo Invece Di Prolungare Il più Possibile Il nostro stint E alle brutte Tanto comunque Ripeto Una sosta La dovremmo fare L'asfalto Si sta asciugando Addirittura Ma insomma Non è assolutamente Il caso Di Di Rifermarsi Anche perché Vedete Ora è ritornata Nuovamente A piovere E Dicevo Bisognerà Eventualmente Prolungare Lo stint Il più possibile E Al cambio Gomme Con Le intermedie Se Finiamo Con Abbuntante Gomme Magari Andiamo Un po' Più Spinti Nella Parte Finale Per cercare Di riuscire Il più possibile Il gap Attenzione Bandiera Gialla Invece Sono Convolte Più Macchine Sainz Addirittura Ha preso Penalità Andiamo A vedere Un po' Cos'è Successo Sainz Forse In staccata Che va a centrare La Fatauri Sul posteriore E Si infila All'interno Non so Di Possessi La causa Sainz È stato Penalizzato Lui Però Mi è Sembrato Non lo so Ha scartato Molto tardi In verità Quando ha Tentato Il Sorpasso Quindi Sono andati Al contatto Quindi Ancora Più In salita La La gara Della Ferrari Pensavo In qualche Safety Che era Qualcosa Invece No Si è risolto Soltanto Con una Bandiera Gialla Si ha Sfatto Sta Asciugando Si La vedo Molto Molto Difficile Intanto Emelto Ha perso Un attimo Il contatto Visivo Con Lando Che ha Riportato Il vantaggio A 3 Secondi E 6 Eravamo Scesi A 3 4 Quindi Si sta Riallontanando Questo momento In cui L'intensità Della pioggia Si ha Si ha Calata E ora Sta un po' Risalendo Credo che Cioè Salvo Veramente Qualche Tipo Di Problema O Safety Car Difficilmente Riusciremo A passarlo Lando Perché Veramente Sta Andando Molto Molto Bene Non che Noi Non siamo Lì Con i Tempi Ma Visto Che Siamo Abbastanza Abbastanza Simili Quel poco Che guadagna Lo mantieni E non riesci A recuperarlo E quindi Difficilmente Riusciamo A riprenderci La posizione Potremmo provare Un undercat Quando Sarà il momento Di fare la sosta Ma Insomma Vediamo Un po' Come Sarà la situazione Forse Appunto Soltanto Aver Eventualmente Montato Le gomme Intermedie Già la partenza Avrebbe dato Il vantaggio Ma avremmo perso Pure un bel po' Di Tempo Però Non lo so Non lo so Perché comunque sia Ci avrebbero passato Sul dritto Sul tratto guidato Se stai Uno dietro L'altro Alla fine Non senti molto La La differenza E non vai Forse a perdere Tantissimo Veramente Dorato Forse un giro e mezzo Che ha iniziato Subra a piovere Anche vero Che non è che appena Cade un po' D'acqua Le intermedie Subito Entrano a funzionare Correttamente Però L'avremmo Bruciate Per un paio Di giri Per quell'attimo Che era Praticamente Asciutto Però poi Avremmo Guadagnato Con il pit stop Da parte Degli altri Però Comunque Sia Secondi E terzi Assolutamente Non male Visto Le posizioni Che abbiamo avuto Nel gran premio Di Imola È incoraggiante Il fatto Che comunque La vettura Ha risposto bene Ora Sarà stato Per il tracciato Particolare Sarà stata Bella Modifica Delle pance Laterali Che Al fine Non è che Ci ha dato Poi Molta Molta performance In più Qualche posizione Diciamo Nella classifica Generale Delle performance L'abbiamo Recuperata Però Comunque Sia È stata Una buona Una buona Risposta Da parte Della nostra Vettura Per quanto Riguarda I tempi Sul Sul giro Poi Non lo sapevo Mai Se In gara Con Con la Asciutta Avremmo Tenuto Un buon Ritmo Rispetto Ai nostri Avversari Piove Quindi La situazione Insomma È particolare Dal punto Di vista Di queste Condizioni La nostra Vettura Va bene Gli altri Comunque Faticano A Riprenderci Anche È vero Che poi Siamo Rientrati Tutti Quindi Tra il Traffico Di chi Entrava Chi Cercava Di Uscire C'è Chi Magari Ha perso Tempo Per Evitare Incidenti In Pit Lane E Quindi Avrà Perso Un po' Di Viaggiando Bene Anzi Gasly Ha preso 11 secondi Da Hamilton L'unico Che Insomma Segue Il ritmo Di Norris Per Quanto Comunque Piano Piano Si Sta Comunque Allontanando Da Norris E Hamilton Che L'ultimo Ha fatto 43 7 Lando 43 9 Insomma Quindi Qualcosina L'abbiamo Recuperata Gasly Lo vede Un po' Più In Difficoltà Anche Su Russell Qualcosina È andato A Perderlo Vediamo Nel Prossimo Giro Com' Com'è Se Si Riconferma Diciamo Un giro Lento Per Norris Oppure No Stanno Ora Arrivando Sul Traguardo Entrambi Norris E' Passato Adesso In 42 0 42 100 Quindi Si è Rimesso Ad Andare Vediamo Gasly 42 0 Quindi Gasly Si è Rimesso Sui tempi Di Norris C'ha avuto Magari Un momento Di 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 Abbassamento Diciamo Delle prestazioni Allora Ci hanno avvertito Che siamo Nella Nella Finessa Dei Box Ma Possiamo Continuare Insomma Vedete Quanto più Alta È la Nostra La nostra Riga Sarà Interessante Vedere Come Si Comporteranno Gli Altri Perché Ovviamente Se noi abbiamo Consumato Poco Anche gli altri Avranno Consumato Poco Il primo A fermarsi Invece È Alonso Per cercare Di Guadagnare Qualcosina Quindi Anche per lui Ovviamente Gomma Intermedia Attenzione Incidente Incidente Nel settore Uno Tsunata Arriva Penalità Per lui Safety Car In box Cioè In pista E quindi Si fa il cambio Ragazzi Box In questo Giro Per forza Safety Car Pista Vediamo un po' Che è successo Questa Tsunata Penalità Ma Latifi Cazzo Ora c'entra Scusami Uuuuh Porello Latifi Che non c'entra Assolutamente Niente Che botta È stata invece L'Aston Marti Di Tsunata Aver fatto Strike Praticamente Quindi Safety Car In pista Hamilton Perché non è entrato Porca L'ho detto Di Fa la sosta Scusa Ho detto Box In questo Giro Perché Cazzo Non si è entrato Stavi Su rettilineo Dannazione Entra Gasly Ma porca Trota Ma guardate Scusa Gasly è entrato Perché Hamilton Non è entrato Eh Safety Car Capito Siamo primi Ma abbiamo fatto Una cazzata Perché non è entrato Io non la capisco Sta cosa Conservativa Accumulo Ma guardate E Andiamo su Conservativa Anche le gomme Vediamo 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 Lando Ovviamente Sta già Dietro De noi Guardate Andiamo A partecipare Le posizioni Sugli altri Adesso Non l'ho Capito Perché Non è entrato In box L'ho pure Dietro Cioè L'ho visto Hamilton Stava Non è che non Avevo selezionato Gasly Mi viene a dubbio Che ho modificato Hamilton Ma ci avessi Selezionato Avessi selezionato Gasly Cioè Quindi Gasly Era sul dritto Ma Hamilton Magari Aveva già Passato La pitlane Perché Sennò Non me lo spiego L'ho fatto Praticamente Prima su Hamilton Poi su Gasly E niente Quindi Hamilton Uscirà In fondo Al gruppo Parca Parca puttana Abbiamo fatto Cioè Fatta una cacchiata A prescindere Insomma Se effettivamente Hamilton Aveva già passato La linea Dei Dei box Com'è possibile Però Scusa No È impossibile Gasly Comunque Dove cazzo è andata La safety car Scusami Aspetta C'è un problema Tecnico Tattico Non è finita La safety car Che cazzo è successo Scusami Eccola qua La safety car Ma chi sta aspettando Perché ha fatto passare tutti Scusami Che cosa sta succedendo Perché ha fatto sta cosa La safety car Scusami Scusami La safety car sta qua La stanno ripassando tutti Hamilton Punto Tredicesimo Ma non credo Perché Hamilton Stava su rettilino Perché se Norris è riuscito A fa la sosta Vuol dire che Ed era primo Era a tre secondi Vuol dire che Hamilton stava sul dritto Quindi è giusto Perché non è entrato Hamilton Io non l'ho capito Sta cosa Non l'ho capito Sta cosa E l'ho pure fatto Cioè era selezionato Che doveva entrare a box In questo giro Più che altro Non ho capito La safety car Perché ha fatto Passare tutti Cioè noi siamo entrati In box Ha capito Che l'herzio è cato Aspettate un attimo Sto a velocizzare Perché io non lo sto Capendo in cacchio Quindi Norris Si deve rifare tutto il giro Rimettese ancora Dalla safety car Quanti giri Stiamo sotto safety car Però così Annaggia Guardate che cazzo De bug Abbiamo becchiato Non ho capito Perché la safety car Si è spostata Ha messo Mote fermi Norris Ok Meno male In teoria la safety car Dovrebbe rientrare In questo giro Non l'ho capito Non l'ho capito Sta cosa Non l'ho assolutamente Capita No Altro giro Se deve safety car Aspettiamo che si Accodie pure Tsunada E poi E' stato centrato Da Tsunada E' Sbattuto fuori Ok Safety car In questo giro Ok Hamilton Purtroppo Gara da Da ricostruire Dannazione Gara da Ricostruire Allora Neutro Equilibrata Anzi Al massimo E standard Standard Al massimo E Neutro Ok Pronti per la ripartenza Se chiamo Lewis Hamilton Condizioni che tornano Normali Attenzione subito C'è Sainz Che cerca di Infilarsi Ripartiti Vediamo se riusciamo A prenderci le posizioni Adesso che sono tutti Attaccati Dannazione Cioè da Ricreare La La gara di Lewis Hamilton Che era Secondo Dannazione Vediamo un po' Se ce l'abbiamo Dovremmo anche cercare Di evitare Di far scappare Norris Perché comunque Non c'è Il DRS Quindi Per forza di cose Dovremmo cercare Di Stargli Attaccato Più che altro Ora andiamo Sì andremo fino in fondo Con queste come Quindi non è che possiamo Andarle a sfruttare Più di tanto E vediamo un po' Se Hamilton riesce a A sorpassare Ma non lo vedo Molto Molto Un palla Attenzione Quasi Science Ci tampona E perdiamo un po' Di tempo Su Su Joe Dannazione Vediamo un attimo Ora qui Gasly Però che è Attaccatissimo Ora Norris Vediamo se Se riusciamo Andiamo anche un po' Di potenza Dovremmo cercare Di sbarazzarci Subito Di Norris E prendere un po' Di margine Se ne abbiamo Per Per stare davanti Anche perché Non c'è il DRS Quindi Non Non dovremo avere Grossi problemi Peccato veramente Per Hamilton Io non ho capito Che è successo Probabilmente non ho capito Poi mi rivedrò Il video Perché non È assurda Questa cosa Attenzione Gasly Che si prende L'interno Ci prova Anzi l'esterno Ci prova però A passare Norris Grande velocità Sul dritto Riesce comunque A tenersi La posizione Riproviamo A noi Con un altro giro Impostato su Potenza Lerz Che Hamilton Non riesce a prendere Posizione Andiamo Potenza Anche lui Vediamo Vediamo Se riusciamo Con Gasly A prenderci La posizione Attenzione Ci proviamo Qui all'interno Norris Si protegge Vediamo Se riusciamo A tirare La staccata No Desistiamo Attenzione Ruota Ruota Ancora Qui in accelerazione Andiamo A mettere Su Neutro Riproviamo Di nuovo All'esterno Ma Norris Una grande Velocità Nel dritto Malgrado Tutto Riesce a mantenersi La posizione Leclerc In box La solita Strategia Ferrari Kenzi capisce Non so Perché Kenzi è fermato Super a cambiare Gomme Però vabbè Guadagniamo Un'altra posizione Noi Attenzione Quaggio Che tenta Il controsorpasso Ma riusciamo A prenderci La posizione Peccato Che era Assolutamente Da rimontare Per Hamilton Ma non abbiamo Tutto sto Vantaggio In verità Quindi Sarà molto Difficile Per noi Vediamo Qui sempre Attaccatissimi A Lando Norris E dietro C'è anche Russell E Verstappen E poi c'è un bel Margine Fino ad arrivare A Esteban Ocon Attenzione Qui Hamilton Cerca di prendere La scia E l'interno Su Joe Si infila Hamilton Maggio Chiude la porta Eh sì Lerz è finito C'ha ragione Mi ha dato Un attimino Troppo Quindi tutto Da Da ricreare Speriamo Che perlomeno C'è un punticino Con Hamilton Ripeto Ma farò sì che ha Il fatto che non sia entrato Subito Io non l'ho capito Perché Sinceramente Non l'ho capito Perché Comunque 38 Dei 57 Dai non è proprio Detta tutta Cioè non è detta L'ultima parola Con l'intensità Della pioggia Che sta ancora Aumentando E ripeto C'è L'incognita Di questa zona Che è quella Che stiamo arrivando Ora Si arriva A Sopra i 4 Millimetri Sarà tosta Per chi Magari non monterà Le full wet Vediamo Poi se lo faranno Insomma Comunque Siamo sempre attaccati A Norris Attenzione Ci facciamo vedere Un po' All'interno Adesso non sembra Scappare più di tanto Rispetto a prima Hamilton Sarebbe dal full wet Vediamo Chi azzarderà Le full wet O meno Attenzione Qui Sempre vicini Ma ci manca Un po' Attenzione Box Box Norris Box Russell Verstappen Verstappen Ricciardo Sainz Full wet Esatto Comunque Per il momento In prima posizione C'è Pierre Gasly 9 secondi Da Albon Hamilton Che è risalito In sesta E dietro Al gruppetto Di Di Perez Sempre Con Coralbon Capitanato Che ora È in seconda Posizione Vediamo Se ci saranno Altri Che si Fermeranno In questo Giro Attenzione Albon Perde la posizione Su Valtteri Bottas Joe Rientra Ai box E sta arrivando Subito Norris Di gran carriera Attenzione Con Mati Full wet Ovviamente Si stanno Fermando Cioè Stanno Stanno Venendo su Noi dobbiamo Dobbiamo resistere Tocca resiste Perché nel momento In cui qui scenderà Non sarà più Da full wet E quindi Loro saranno Possetti a fare Un altro pit stop C'è da resistere Veramente Stringiamo i denti Vediamo Gasly Intanto 9 secondi E 4 Stanno venendo su Ovviamente Molto molto Velocemente I gommati Full wet L'importante È non perdere Assolutamente Questo trenino E Gasly Per ora Sta andando Molto Molto Bene Andiamo un attimo Di accumulo Qui Visto che Stiamo un po' Tutti vicini Camelto Sta un po' Faticando Con Con L'Hers 9 secondi E 4 Su Bottas Vediamo un po' Quanto gira Norris Pierre Girato in 49 E 3 Lando In 49 E 4 Adesso Però sta un po' Bloccato Diciamo Dai vari Sorpassi C'è Insomma Sto Sto Trenino E Si sta facendo Ora Largo Ovviamente Tra i vari Appunto Sorpassi Attenzione C'è Verstapp Che cerca Di infilarsi All'interno Vediamo Hamilton Chiude la porta Si rimettiamo Sul neutro Possiamo Rimanere Ancora Ancora Così Gas Libere Il momento È sceso A 9 secondi 9 secondi E 3 9 secondi E 1 Ma Va bene Sta anche calando Un po' L'intensità Della Della pioggia Bisogna Stringere i denti Ragazzi Per questo Picco E poi Andrà a calare Quindi Sapremo Poi Se effettivamente È giusta O meno La nostra Strategia Sperando Che anche Le previsioni Siano corrette Perché Se no È tutto Ancavolo Per il momento Stiamo sotto I 4 mm Quindi Le full wet Ora potrebbero Non essere Ideali Però Comunque Norris Si è portato A 4 centesimi Scusate Da Bottas Lo sta Sorpassando All'esterno Bottas Cerca Di Difendersi Proteggiando Ovviamente La linea migliore Vediamo Se ne avrà Ora Norris Per Riprendersi Per Prendersi La posizione Qui sul dritto Stanno avvicinando Anche i gruppetti Dietro Però Album Piano piano Sta ricuciando Il Il gap E Norris I nuovi box Rientrano tutti Colmati Full wet Pessima scelta Ragazzi Veramente Pessima scelta Quest Cioè Che è una cosa Assurda Ma manco Un Ferrari In realtà Se inventerebbero Una cosa del genere E Quindi tutti Rientrano in box Vediamo un po' Per rimontare Le intermedie nuove Intermedia 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 E si Pessima Strategia Questa Pella Veclare Che Non credeva E quindi Poi quando rifaranno Il pic Quando Rientrano a rimontare Full wet Fanno 70.000 Pit stop Farò sì che Ancora Hamilton Che purtroppo Sta bloccato qui Blocchiato qui In sesta posizione Dietro Al gruppetto Qua di Perez Vettel E Albon Con Bottas Che ha preso Un po' Di margine Ma per fortuna Gasly Per il momento È cavalcata Solitaria In prima posizione Però se Hamilton Avesse fatto La sosta Avremmo avuto Prima e secondi Doveva fare la sosta Quando gli avevo detto Non lo so Perché non l'ha fatta Ha proseguito dritto E quindi Ora si trova In mezzo al traffico Anzi Siamo state fortunate Che queste fanno Strategi assurde Sennò Saremmo state Ancora più Più indietro Perché non riusciamo Ok di nuovo Quattro Millimetri Perché c'è Il secondo Scrocio Di acqua Vediamo se si Rifermeranno Nuovamente Per fare la sosta Vediamo un po' Hamilton Sempre attaccato A Perez Stiamo cercando In tutti i modi Di passarlo Veramente Di passare In ogni In ogni dove Ma non riusciamo C'è manca Quel guizzo Oh Tutti io Ci siamo Passati attraverso Mamma mia Mamma mia Pensavo che L'avesse centrato Va bene Va bene Pure così Ci siamo Passati sopra Prendiamo La rivedere Perché è Qualcosa di assurdo E Oddio L'ha tipo Scartata All'ultimo Mamma mia Che ha fatto Perez Che si è blocchiato E Hamilton L'ha scartata All'ultimo Sono state box Ancora peggio No Andiamo che rimontano I full wet Dai Joe Te prego A meno che Non era l'unico Che è rimasto Con le full wet Dai Joe No Vediamo un pa' Molto curioso Di capire Che caspita Stanno facendo Attenzione Ora Hamilton Scatenato Cerca subito Di prendersi La posizione Anche su Fett Ci riesce Fett però Non ci sta Noi teniamo La posizione Da ruota No Joe Ha rimesso L'intermedia Quindi penso Che sia Era l'unico Che non aveva Fatto il pit stop Quando si sono Rifermati tutti Comunque Hamilton Scatenato Veramente Si è liberato Di Perez Ora stiamo Passando anche Albon Grandissimo Hamilton Di prepotenza Stava a prendersi Questa terza posizione Ci mettiamo A calcia Di Valtteri Bottas Che non è poi Lontanissimo Solo a 3 secondi E 3 Per una Ipotetica Seconda posizione Mancano 10 giri al termine Grande Hamilton Veramente Che una volta Sbarazzatosi Di Perez Ha iniziato A martellare Come poche Prendendosi Anche le posizioni E guadagnando Ora Già aver messo Un secondino Su Albon Mettiamo appunto Nel mirino Bottas Lì davanti Attimo Così andiamo a vederci Gasli Qui Che Veramente Incavalcata Solitaria 11 secondi E 3 Veramente Molto Molto Tranquillo Teniamo comunque Abbastanza A miscela Insomma Grass Qui Non ci sono Non ci sono Problemi Invece Seguiamo Hamilton Perché già 2 secondi E 6 Da 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 Bottas Sarebbe veramente Il top Riuscire a mettere Le due vetture In prima e in seconda posizione Diamo un po' i giri Gasli ha fatto Un 54 e 1 54 e 2 Per Bottas 53 e 1 Un secondo Meglio Per Lewis Hamilton Veramente testa bassa Grande ritmo Adesso Per Per Lewis Con la macchina Che piano piano Si sta Si sta svuotando Di benzina Fa un po' come la Ferrari Quando si svuota Di benzina Fa un po' meglio E Un secondo e set Già da Bottas Qua davanti Andiamo un po' Le pneumatici Come percentuali Stiamo più o meno Lì Anzi Bottas Sta al 66% Quindi Molto meglio Di noi Ma intanto Lewis Lo vede Un secondo e tre Ce lo abbiamo Nel Nel mirino Assolutamente 9 decimi Subito Già rusicchiati Volalas Sul bagnato Abbiamo fatto Molto più fatica E' successo Ogni tanto Mi togli la velocità Che mi fa Prendi i colpi Abbiamo fatto fatica Per quanto riguarda I sorpassi Una volta che eravamo Nel trenino Ma per esempio Poi appena si è liberato Di 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 Perez Hamilton Ha fatto tipo Tre sorpassi In un giro E ora è andato A prendere Bottas Abbiamo rosicchiato Due secondi Così Grandissimo Hamilton Che è subito Dietro a Valtteri Bottas Attenzione Perché mancano pochi giri Ma sennò Gasly Se Hamilton Tiene questo ritmo Non è che sta Proprio sicurissima La leadership Hamilton è girato In 46.7 Cioè Assurdo Un attimo Benieraggiato Nel settore 1 Subito tolta Attenzione Hamilton Ci prova Qui Bottas Tiene la Traiettoria interna E protegge La La posizione Attenzione Vediamo qui In curva 1 Si fa sempre Vedere Hamilton Ma Non riesce Per il momento A prendersi La posizione Attenzione I due Ex Compagni di squadra Bottas Che ha preso Il posto Di Hamilton Che era andato Via dalla Mercedes E noi l'abbiamo Ripreso Velocemente Spendendo un buato Di sorti Però ci sta Insomma Ripagando un po' Le performance Come ruote blocchiate No No Gasly Ma no Ma che cazzo Hai fatto Mamma mia Gasly Ma perché Ma porca Ma che L'ha ritirato Ma porca Puttana Gasly Tanto qua Hamilton Se dai Ma non è possibile Ma non è possibile Aspetta Non è possibile Gasly La potevi solo Perde te Stagaro Ma porca Puttana Ma dai Eeeh Danni Reparabili Addirittura Scusa Non c'hai mai un altro Alettone Sì Box in questo Giro Ma porca Puttana Gasly Solo te La potevi Perde Stagaro Solo te E l'ha persa L'ha persa Vediamo un po' Se Hamilton Eh lo so Che è distrutto Te ho già detto Che lo devi cambiare Non ferma Modifiche Dai Ho già detto Box in questo Giro Rientri Per cortesia Sì Sta rientra Ma porca Ma guardate Dai Hamilton Che stagaro Doveva essere Una passeggiata Quasi Eeeh Vediamo un po' Che Che Posizione esce Capirai Prima che Cambiamo Alettone Dai In settima Posizione Ora Porca Trote A sei giri Dal termine Settima Posizione Sì Attenzione Subito Attaccato Da George Russell Ma Vaffan Cucco Gasly Dai Dannazione Andiamo a Vederci qua Bottas Che sta facendo Spalle Larghissime Per poter Rimanere Davanti Ad Hamilton Prima Posizione Che da qui Era Veramente Impossibile Da immaginare Nelle Mani salde Di Gasly Sospensione Poi i danni lievi Attenzione Hamilton qua Ci prova all'esterno Ma Da Bottas Non concede nulla Gasly Quattro secondi Da Norris Ma Fanculo E niente Attenzione Vediamo qui Allora Concentriamoci Sulla lotta Ora Per la Prima posizione Che ripeto Era A favore Nelle mani Di Gasly Da Sei giri Dal termine Attenzione Di nuovo Hamilton Qui all'esterno Ci riprova Ma Niente da fare Attenzione Ruota a ruota Ora però Bottas C'è il favore Di traiettoria Vediamo se riusciamo Magari a uscire meglio Qua in trazione Purtroppo Non abbiamo Molto Hertz Da sfruttare Di nuovo In scia Batta Sprotegge Nuovamente L'interno Noi ci prendiamo Tutto l'esterno Ma la Mercedes È un po' più veloce Sul dritto Noi possiamo Solo che Affiancarci Ma Hamilton Si deve inventare qualcosa Per poter portare a casa Il sorpasso Vediamo qui in curva 1 Ci affianchiamo Ma non riesce Non riesce A portare A casa Il risultato Dannazione Cioè La vittoria Sarebbe il minimo Per quanto Abbiamo fatto vedere Insomma Come performance Ma veramente Tanta tanta Sfiga Attenzione Hamilton Ci prova Nuovamente All'esterno Bottas Protegge Molto bene L'interno E non riesce A farci passare Attenzione Qua ancora Gasly Ormai Gira Ho messo pure Abbastanza aggressivo Sui gomme Ma C'è poco da fare Ma questo è Ce voleva Poi C'è pure I danni Sui sospensioni Ce voleva proprio Dannazione Un errore così Non ce volevo Assolutamente Eri prima Undici secondi Porca troia Porca giuda Undici secondi Ok L'avevo messa A miscia la grassa Ma insomma Proprio sbagliato lui Proprio sbagliato lui Dannazione Allora Di nuovo Hamilton I giri Si fanno sempre di meno Allo scadere Alonso Ebox Così Beh Sosta All'ultimo Attenzione Ci riproviamo Nuovamente All'esterno Qui Ma Bottas Chiude Molto Molto bene Non Ci abbiamo Un po' Di Trazione Da ora Anche rimetta Benzina Normale Da qui a poco In verità Si fa ma Mette subito Sì rischiamo di non Arrivare in fondo Attenzione Qui sul dritto Ancora la Mercedes Molto molto veloce Ci proviamo Qua all'esterno Ma non abbiamo Non abbiamo Trazione Il problema Che se metto In accumulo L'Hers Poi non Non lo ribiecco più Perdo quell'attimo E via Albo Nebox Attenzione Gasuri Prende la posizione Non capito Perché si sono fermati Questi Perché c'hanno Poca percentuale Sti chiacchi Cioè Noi Col 48% Ovviamente andava in fondo Questi però Piano piano si fermano Cioè Buon per noi Gasuri guadagna Un'altra posizione Però la lotta E qui davanti Con Bottas Che incredulo Si trova in prima posizione Di questo Gran Premo Di Miami Attaccato Da Luis Hamilton Che sta cercando Veramente in tutti i modi Di portarsi Avanti Ma non riesce Di nuovo in scia Qui non riusciamo Neanche a prenderci La posizione In staccata Rimaniamo dietro Ancora In un'altra posizione E pure te Hamilton Vai aggressivo Dobbiamo cercare Di portare a casa Sto primo posto Dai Nell'ultimo giro Attenzione Di nuovo Affiancati Proviamo a farci vedere All'interno Questa volta In staccata Bottas però Chiude Tutto il possibile E inizia Ora l'ultimo giro Attenzione Hamilton All'interno E non riesce A passarlo Si ho smesso Di piove Sti cacchi Dai 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 Andiamo Di modalità Sorpasso Veramente Tocca a dare Tutto per tutto Magari in trazione Tensione Proviamo a farci vedere Qui all'esterno Che poi diventa Interno Veramente Stiamo cercando Di farci vedere Ovunque Ma Bottas Chiude benissimo Tutto Tutti gli spazi Attenzione Qui In trazione Sta affinando Anche l'Hers Attenzione Qui Finito l'Hers Lo affianchiamo L'ultima curva Bottas Però Al favore di traiettore Va a vincere Dannazione Bottas Si prende La prima posizione Andiamo a vedere Qua che succede Ci eravamo fatti Vicino a Norris Ma non riusciamo Settore 3 Bandiera gialla Non abbiamo finito La benzina Penso Abbiamo finito La benzina La benzina Va bene E niente Purtroppo Seconda posizione Per Hamilton Ci abbiamo provato In tutti i modi A passare Bottas Ma dopo aver passato Due macchine In maniera Agile Ci siamo arenati Dietro la Mercedes Di Valtteri Bottas L'errore di Gasly Che non ci voleva Assolutamente Un sesto posto Che ci va Veramente Veramente Stretto Assolutamente Assolutamente Sì E' finita la gara Ma che sveglia Bandiera rossa Che cazzo succede Tutto è successo Vabbè E E niente Ripeto Piccola consolazione Soltanto Il secondo posto Di Hamilton Che ci va Comunque stretto Non voglio manco Vederlo sul pod Perché mi fa Solo rosicare E Incidente di Gasly Che veramente Non ci voleva Assolutamente Bottas Che si trova In prima posizione Malgrado I numerosi Attacchi di Hamilton Che non sono andati A segno Veramente Ci avevamo provato In tutti i modi Ma alla fine L'ha spuntata Valtteri Quindi Andiamo a vedere Classifica piloti Chi Riusciamo a guadagnare Qualche posizione Insomma Hamilton sale In nona Con questi 18 punti Del Secondo posto E Gasly Ne guadagna una Su Ocon Con Questo Sesto Misero Posto Insomma Quindi Va bene Pure così Insomma In Cassivia Costruttori Invece La L'Asta Insomma Riusciamo a guadagnarci Una piccola Posizione Non è una sola posizione Ai danni Dell'Alpine Però Insomma Vediamo Insomma Perché comunque Le performance Perlomeno In In gara Sul bagnato Anche in qualifica In realtà è andato bene Però Ci manca di capire Effettivamente Il passo gara Come sarà Viste le Modifiche Che abbiamo portato Quindi Punti esperienza Gasly Guadagna Un suo punto sviluppo Che parca trota Io ti toglierai Stipendio Guarda Per l'errore Che hai fatto Veramente Assurdo Assurdo Allora Distrutturazione Completa Ok Allora Velocemente Guardiamoci le mail Va bene Sì Siamo garantiti Raffreddamento Motore E fluidibilità Di Luiz Che dovremmo cercare Di superare Di aumentare Queste Per aver superato Billantemente Le aspettative Meno male Meno male Almeno quello Condizioni Sare consiglio Scadenti Questa Andiamo a ristrutturare Immediatamente E Ristrutturazione Centrovise Completato Bebbine Allora Appunto Andiamo a mettere A Gasly In Oddio C'ha abbattuto Pure difesa Non è male Cioè Stava 81 Fluidità Che cacchio è Capacità di ridurre Lo sviluppo Le gomme in gara Ok Adattabilità E sorpasso Andiamo a mettere Un sorpasso Anche difesa Dovremmo cercare Di migliorare Però Che attraverso Sto Rosicà Veramente Quell'errore Che ha fatto Veramente Sto Rosicà Va bene Allora Il prossimo Gran Premio Sarà In Catalunia Circurio Di Barcellona Tra 11 giorni Ora Non so se abbiamo Qualcosa In verità In fase Di Sviluppo Abbiamo In sotto Scocca nuova Che arriva Tra due giorni Ok Quindi Proprio In tempo In tempo Per Il Gran Premio Quindi Andiamo a mettere Un altro Componente Nuovo Appunto Per Per quanto Riguarda La nostra Vettura Vediamo se Riusciamo A migliorare La situazione Allora Io direi che Ci possiamo Anche salutare Qui ragazzi Gran Premio Che è stata Diciamo una palla Per buona parte Fino a Avviene Che è successo Il mondo Purtroppo Per causa Nostra L'errore Di Gasly E Quindi Comunque Abbiamo Fatto Una Buona Performance Ripeto Per quanto Abbiamo Fatto Vedere C'è Sta Stretta Assolutamente Però Può Essere Incoraggiante Per Le prossime Per i Prossimi Gran Premio Vedremo Subito Per quanto Riguarda La La vettura Se Effettivamente Andremo A Confermare Le buone Performance Avute In In Qualifica A Miami Già Nel Tracciato Di Barcellona Tra 11 Giorni Nel Gioco Io Di nuovo Vi saluto Ci vediamo Al prossimo Appuntamento Ciao Ciao